A Montecatini per scrivere la storia. L'amatori sa che è difficile, ma è consapevole che può farlo, almeno per quanto visto da quando la squadra di Stefano Reola è rientrata nei play-off. In semifinale Nardò liquidato in tre partite. Nella finale Salerno, sulla carta già destinata alla Final Four, in quattro. Ora, per toccare il cielo con un dito, bisogna battere l'Urania Milano, squadra forte e formata da giocatori molto esperti. Se toccando ferro poi dovesse andare male, la formula della Final Four dà un'altra possibilità con la terza promozione in A2 da giocarsi domenica contro la perdente dell'altra sfida, Orzi Nuovi Sansevero. Ma perché non scrivere subito la storia? Giocare una partita in un campo neutro, ci saranno le nostre tirofoserie e anche quelle altre che arriveranno, delle altre due squadre che giocheranno dopo di noi. Sicuramente una partita secca rispetto a una serie a tre, cinque gare dove c'è una preparazione anche tra partita e partita è diversa rispetto alla gara secca che abbiamo detto. Noi assolutamente non pensiamo alla seconda gara, siamo concentratissimi sulla prima, le percentuali sono altre che su quattro squadre ne passano tre, però bisogna vincere una partita. Quindi noi dobbiamo essere super concentrati sulla prima partita e poi si vede come va e dopo eventualmente si pensa alla seconda. A proposito di concentrazione, tu da giocatore sicuramente hai vissuto momenti di particolare pathos, ma come coach forse è la prima volta. Come pensi di affrontare tutto questo anche dal punto di vista emotivo, tu o dalla panchina? Io cerco di trasmettere abbastanza, non tranquillità, perché non si può arrivare tranquilli a giocare queste partite, però di sicuro non tensione, perché affrontare queste partite con troppa tensione, sentirle troppo, poi ci può portare a non essere fluidi, a non essere lucidi durante la partita. Queste partite possono, una gara quattro come quella che abbiamo giocato in casa, le gare di spareggio che si giocano quando magari una fa una serie a cinque partite e ti devi giocare la quinta, in cui ci si gioca tutto per entrambe le squadre, al di là di dove si gioca in casa o fuori, sono partite in cui bisogna stare veramente concentrati, tantissimo come sempre, ma ancora di più, dove si deve sbagliare il meno possibile e cercare di fare la migliore partita possibile. Avrai visto sicuramente dei video della squadra avversaria dell'Urania, insomma, stai preparando qualche trappola, qualcosa? Allora, guarda, sicuramente sulla falsarica di quello che abbiamo fatto con Salerno, secondo me siamo già sulla buona strada, dalle partite di Nardò alle partite di Salerno. Innanzitutto il concetto di squadra, cioè giocare insieme, giocatori che quando entrano sanno quello che serve in quel momento alla squadra, lo abbiamo dimostrato in questa serie con Salerno, che chiunque entrava dava il suo contributo, ma non un piccolo contributo, un grandissimo contributo. Tutti sono stati indispensabili in questa serie. Dal punto di vista del gioco non penso che cambieremo tantissimo, è logico che ogni squadra ha le sue proprie caratteristiche, stiamo cercando di leggere al meglio le caratteristiche di Milano e provare a togliere poi quelli che sono e che saranno sabato i loro punti di forza, però lo stiamo facendo adesso, poi non è che posso dire troppo. L'ultima, Stefano, l'ho già un po' accennato, l'abbraccio del vostro pubblico sicuramente sarà importante, è un sostegno importante. Guarda, stiamo vivendo nelle ultime settimane grande interesse intorno alla nostra squadra, alla nostra società, il pubblico che c'è, io non finirò mai di ringraziare quelli che ci hanno seguito tutto l'anno perché sono veramente i più importanti e sono sicuro che sono quelli che ci seguiranno a Montecatini. Ma voglio accogliere a braccia aperte tutti quelli che in queste ultime settimane sono venuti a vedere le partite, sono rimasti entusiasti, hanno voglia di seguirci pure a Montecatini perché comunque per noi, per la società, innanzitutto che fa tantissimi sacrifici per portare avanti stagioni così esaltanti, ma voglio dire comunque impegnative anche dal punto di vista economico. Per noi che sono dieci mesi che ci alleniamo, fa molto piacere aver riscontrato un grande interesse del pubblico, dei tifosi e avere un buon seguito di supporter che ci aiuteranno, che non ci faranno sentire soli e ci daranno il loro contributo anche nella partita di sabato.